Oggi va in scena l'Aragosta, accompagnata dal mio spaghettone. Quello mio, eccolo qua! Fatto di grano 100% italiano, trafilato al bronzo. Ho scelto io di farlo perché volevo uno spaghetto che avvolgesse le mie salse, i miei sughi, le mie preparazioni e quindi doveva essere più grande dello spessore normale. Voglio fare uno spaghettone all'Aragosta che serva al lusso della semplicità che è la fine del mondo. Aragosta fresca, cipolla ramata, pomodorini d'atterino e adesso è il momento di calare il mio spaghettone. È il momento di impiattare. Una delle paste più buone che esistono. Sentite come suona questo piatto, non lo lascio. Grazie. Grazie.